Ciao! Oggi parliamo di dimagrimento e perdita di peso e voglio farlo presentandoti un integratore con un principio attivo estremamente importante ed efficace anche se non fai attività fisica e anche se non segui una dieta specifica. Questo integratore non è un miracolo, lo si conosce dal 1951, quindi direi abbastanza tempo, e si chiama ALA, acido alfa lipoico. Qualcuno di voi lo conoscerà, molti magari non sanno nemmeno di cosa sto parlando, e allora voglio semplicemente, in maniera molto veloce e breve, cercare di darti qualche spiegazione, informazione aggiuntiva. Allora, perché è importante un'integrazione di acido alfa lipoico? Per due motivi, uno per il benessere e due per il dimagrimento. Benessere perché? Perché è un potente antiossidante, quindi contrasta molto bene i radicali liberi e dall'altra parte aiuta ad abbassare i livelli di glicemia. Tant'è che in campo clinico viene anche utilizzato in chi soffre di diabete 2, quindi diabete alimentare. Perché? Perché va a stimolare i trasportatori, diciamo, degli zuccheri, che sono GLUT1 e GLUT4, magari li hai anche sentiti nominare o comunque li avessi iscritti, e quindi di conseguenza c'è un miglior trasporto degli zuccheri dall'organismo verso, quindi dal sangue verso le cellule, in particolar modo muscolari, in modo tale che questi zuccheri vengano eliminati e utilizzati, piuttosto che rimanere a livelli alti nel nostro sangue. E quindi di conseguenza questo è un benessere sia sul dimagrimento, sia sul benessere generale. In ultimo agisce anche come aiuto e supporto all'attività fisica, perché favorisce il passaggio dall'attività anaerobica all'attività aerobica, detto in maniera semplicistica, aiuta a migliorare il consumo dei grassi, quindi aiuta ad aumentare il metabolismo, aiuta a bruciare meglio il grasso che abbiamo in eccesso e quindi di conseguenza ci porta verso un percorso di dimagrimento. Questo integratore è fenomenale, utilizzato veramente da tantissimi anni, soprattutto spesso viene aggiunto in sinergia al cromo piccolinato, perché anch'esso che aiuta ad esempio a sopprimere il senso di fame, aiuta nello sport a prevenire crampie, è usato molto nelle diete ipocaloriche, la sinergia dei due prodotti insieme ha un effetto potentissimo sul tuo organismo. Come al solito io non ti invito a credermi sulla parola, ci mancherebbe altro, informati dove vuoi e soprattutto il miglior consiglio che posso darti è quello se vuoi di sperimentare tu stesso in prima persona. Io spero di essere stato abbastanza chiaro, come al solito qualunque tipo di domanda ti venga in mente o ti verrà in mente, basta che tu entri nella pagina Facebook Vitamistore Petrasanta, piuttosto che nella pagina Instagram, trovi tutti i contatti di riferimento, ti invito a scrivermi senza nessun tipo di problema o se sei nelle vicinanze a passare direttamente in negozio e approfondire questo argomento.